Con l'approssimarsi delle festività e dei ponti primaverili, milioni di persone si riverseranno nei giorni da Bollino Rosso sulle arterie stradali ed autostradali italiane. Da un'indagine condotta dalla CNA Turismo e Commercio emerge che dal 19 aprile fino al 23 si riverseranno sulle strade oltre 14 milioni di vacanzieri con un picco nelle giornate del 20 e del 22 prossimi. Un flusso di veicoli che metterà a dura prova il sistema di sorveglianza e controllo a cui le forze dell'ordine sono chiamate a svolgere sempre con grande professionalità ed efficienza. A partire quindi da questi giorni e in prosecuzione per tutto il periodo delle festività, la polizia stradale di Pesaro ha messo in atto tutta una serie di controlli sul fronte della prevenzione del contrasto delle infrazioni al codice della strada o della guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Dall'inizio del mese di aprile avvalendosi anche delle ultime e moderne tecnologie elettroniche a disposizione come lo street control e il telelaser Digicam, gli agenti della stradale hanno potuto accertare 635 violazioni al codice della strada. 19 sono state le sanzioni per l'uso del cellulare durante la guida con la sanzione di 161 euro e la decurtazione ad altrettanti conducenti di 5 punti dalla patente. 15 sono state le persone colte a guidare senza cintura di sicurezza a cui sono stati decurtati altri 5 punti dalla patente di guida. Con l'utilizzo dello street control che consente la verifica della copertura assicurativa o della revisione sono stati verificati 2710 veicoli accertandone che ben 19 erano sprovvisti di revisione e 14 senza la dovuta copertura assicurativa. Grazie anche all'utilizzo di questa tecnologia è stato scoperto un clandestino poi espulso dall'ufficio immigrazione della questura di Pesaro. Ma anche il fiuto e l'istinto del poliziotto oltre alle tecnologie fanno spesso la differenza come il Sant'Orso di Fano dove un agente libero dal servizio mentre passeggiava tranquillamente nel quartiere col suo cane ha scovato un'auto sospetta parcheggiata. Un Fiat Cubo risultato poi essere stato effettivamente rubato a Forlì, mezzo poi prontamente restituito al legittimo proprietario. Grazie a tutti.